Ciao a tutti, andare a letto la prima sera con un uomo, buona o cattiva idea? In questo video voglio darti alcune indicazioni, se è una buona o una cattiva idea andare a letto la prima sera con un uomo, la prima sera con la quale esci con un uomo. Allora, bisogna tenere presente questo, adesso ti dirò tutte le informazioni, prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notare che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra, diciamo, delle lezioni tra tre livelli di abbonamento, lezioni a livello base con lezioni mirate e bisettimanali, livello top con lezioni mirate più videoregistrazioni seminari dal vivo e livello master consulting con in più una consulenza telefonica. Quindi scegli il livello di abbonamento che ti interessa. Ma veniamo adesso al tema, andare a letto la prima sera con un uomo, buona o cattiva idea? Allora, dipende da te. Cioè dipende da quali che sono i tuoi obiettivi, dagli obiettivi che tu hai nei confronti di quest'uomo. Se tu vuoi goderti il piacere e non hai voglia di perdere tempo, non hai voglia di far sì che si coinvolga, allora dagliela la prima sera. È fondamentale però capire che se tu invece volessi avere una relazione stabile con questa persona, allora non è la scelta ottimale. Che poi c'è qualcuno che dice, ah gliel'ho data la prima sera, pure che lui non me l'avesse neanche chiesta, gliel'ho data anche se non me l'ha chiesta. E ci siamo sposati, siamo sposati da 5.000 anni, per dire. Può succedere, ma non è che è una cosa che succede una volta. Qua tutto è possibile, nel mondo tutto è possibile. Cioè è possibile che tu incontri una persona, ci vai a letto dopo un quarto d'ora che l'hai conosciuta, forse anche meno, e diventa l'uomo della tua vita. È possibile. Però è poco probabile. Quindi se tu mi chiedi se è possibile che questo succeda, ti dico di sì, se mi dici se è probabile che dandogliela subito riesci a fargli innamorare, ti dico di no. Proprio perché l'uomo non si innamora facendo l'amore, anzi facendo l'amore scarica le tensioni, mentre l'amore è una tensione. Ecco, immaginandole questo, l'amore è una tensione. Dargliela scarichi la tensione, quindi affievolisci. Certo che poi dopo si ricarica, però intanto ha avuto anche un appagamento mentale e anche un appagamento, diciamo, istintuale, perché l'istinto intanto del maschio tende a disseminare. Perché c'è questa differenza? C'è questa differenza fondamentale tra uomo e donna, che una donna inizialmente magari un po' restia, inizialmente magari non si trova tanto bene, poi più lo fa, più gli piace farlo con quell'uomo lì. Perché se l'è identificato come il maschio giusto, quello geneticamente idoneo, questo avviene tutto a livello inconsapevole, beh, l'istinto le farà pure provare piacere, indipendentemente dal fatto che questo sia bravo o non sia bravo. È una questione tutta interna alla donna, perché il piacere, scordiamoci, che sia un qualcosa di esterno, cioè che quello bravo, certo, un po' influenza, ma è tutta una questione mentale. Quindi se la donna è predisposta a provare piacere, provare piacere, pure se uno scocca le dita, per dire, non c'entra niente quello. È proprio una predisposizione mentale, no? È ovvio che l'istinto, quando è che ti fa provare piacere? Quando pensa che quello possa essere la persona, diciamo, il maschio giusto, da un punto di vista, possiamo dire, fisiologico, insomma, per procreare. Non importa che sei una malgasciona, che hai 107 anni e che non puoi più procreare, non importa niente. L'istinto agisce così, cioè, e questo è un primo punto. È ovvio che per il maschio è diverso, perché il maschio, una volta che ha, diciamo, copulato, va a cercare altri copule, perché per lui, per il maschio, in generale, l'istinto lo porta ad avere più possibilità di avere una prole se copula con tante donne, piuttosto che con la stessa. Soprattutto una prole che poi sopravviva. Quindi la spinta istintuale è diversa. Quindi, scordati che col sesso fai innamorare gli uomini. Poi, ti ripeto, potrai dare un appagamento, potrai dare un piacere, potrai dare tutto quello che vuoi, ma non è quello che gli fai innamorare. Quindi, perché? Perché, allora, uno dice, ma tanto prima o poi devo dargliela. Certo, ma se tu gliela dai, dopo che lui ha già fatto degli investimenti su di te, ha emotivi, almeno si è creato una connessione emotiva. Se c'è già una connessione emotiva forte, cioè, tu lo fai innamorare tramite le emozioni. Il sesso è sicuramente un altro collante, ma viene secondariamente all'approvvigionamento emotivo. Questo devi tenerlo presente, perché se tu non sai questo... Quindi, per fargli innamorare, ci vogliono dei tempi. Ci vogliono dei tempi, bisogna fare un po' di push-pull, bisogna giocare, bisogna dare e togliere. Insomma, creare forti tensioni emotive e soprattutto far sì che lui poi arrivi a fare qualche investimento su di te. Investimenti possono essere di qualsiasi tipo, ma sicuramente investimenti di energia e di tempo, investimenti magari economici, investimenti affettivi, investimenti anche logico-razionali. Ti presenta la mamma, il papà, il cane, il gatto, non so, gli amici. Insomma, investimenti vuol dire che mette sue energie sotto varie forme, perché poi le energie si possono manifestare in varie forme, non esiste un unico modo di dare energie. Energie sotto varie forme le mette a tua disposizione e questo fa sì che si coinvolga. che ti piaccia o che non ti piaccia genera un coinvolgimento. Però devi tenere presente che c'è sempre un però. È ovvio che questo richiede del tempo, quindi richiede anche magari saper aspettare, richiede tante cose. Molte donne hanno, anche loro hanno giustamente l'esigenza di viversi una situazione donistica, per cui viviti la situazione donistica, ma l'importante è avere le idee chiare. Che cosa vuoi dalla relazione con questa persona? È evidente che se uno che, diciamo, pensi che tanto non possa mai essere il padre dei tuoi futuri figli, non possa essere l'uomo con cui passare del tempo, perché magari è libertino, perché magari non ti piace come vive, non ti piacciono tante cose, è inutile che stai a sperare di cambiarlo. Meglio dargliela subito la prima volta e così tu ti godi il piacere, anche tu, e poi come va, va, ma non crearti ovviamente, diciamo, non farlo per ottenere dei risultati di innamoramento, a non lamentarti, poi, uh, non mi cerca più, nel 90% capiterà che non ti cercherà più, poi, o che ti ricercherà quando dovrà svuotarsi, ma questo è un dato di fatto. Quindi definisci il tuo obiettivo e poi capirai che cosa devi fare. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metto un like, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, ti ricordo che sul canale ti potrai abbonare e abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!